Un'altra sconfitta per il Masera che ha ceduto 16-8 con la Perosina. Per gli assolani comunque segnali di risveglio dopo il pesante KO della settimana precedente a 90 di Piave. Negli altri incontri del campionato tutti pareggi. Come detto, la squadra di Girlanda ha posto una buona resistenza ad una formazione che si è permessa il lustro di tenere in panchina nel primo turno di partite un giocatore del calibro di Simone Nari, più volte campione italiano in questi anni. Nell'individuale Ivan della Piazza nulla ha potuto contro Luca Melignano, male. La coppia genovese formata da Basso e Crovo che ha ceduto 10-4. Successo invece per la Terna di Mariolini e Lerio e Goschino che hanno vinto 13-6. Rammarico per la seconda coppia formata da Cinali e Ragozza che sono andati avanti per poi cedere 6-4. Nella seconda fase Perosina dirompente nella staffetta con Micheletti e Bernic e nella progressivo con lo stesso Bernic, mentre la Masera ha esultato per la vittoria nel tiro di precisione. Prima dell'ultimo giro di partite Perosina è in controllo sul 12-4. Il neo entrato Nari ha conquistato due punti partita contro Cinali, poi successi nell'individuale Perbasso e nella coppia con Della Piazza e Guaschino che hanno superato Manolino e Pastre, tra l'altro vincitori da domenica alo anno della gara coppie di categoria A valida per la Coppa Italia davanti ai compagni di squadra Beacovic e Bernic. La Terna con Mariolini, Crovo e Mellerio ha perso la propria partita ed il punteggio finale dell'incontro si è chiuso con il da 16-8 ospite. La classifica del campionato vede ora in testa la BRB con 9 punti davanti a Ferriera e la Perosina con 8. Purtroppo per Ida Masera e la 90 di Piave è riuscito a racimulare un altro punticino nell'incontro che lo vedeva opposto alla Pontese ed ora sono tre i punti di distacco in classifica. Sabato prossimo si svolgerà la sesta giornata di campionato ed Ida Masera sarà impegnato ancora una volta in casa proprio contro la Pontese, squadra di Treviso dove in Milita Mario Suini.